Qua forse ci scappa un video, proviamo, vediamo, al limite lo cancelliamo e non lo vedrete mai e poi mai C'è Dani che vuole raschiare di cavalletto Secondo me ce la fa Mario mi ha sorpassato di preposizione Potenza, abbastanza senza motivo in questo caso perché comunque io ero attaccato a Dani In realtà forse vuole il video, potrebbe Boh La cosa divertente è che essendomi passato davanti come secondo si deve fermare lui Punizione divina E riprendiamo Interrompiamo qua Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti